buonasera e ben trovati un'altra puntata di in cammino oggi venerdì puntata dedicata a scoprire e capire come sta andando il cammino sinodale nelle varie chiese in italia oggi facciamo il focus sull'arcidiocesi di salerno campagna a cerno e per parlarne abbiamo in studio don roberto piemonte ben trovato don roberto buonasera grazie per l'invito grazie saluto anche a chi ci guarda da casa grazie a te vicario episcopale dell'arcidiocesi e poi collegato da salerno c'è l'arcivesco monsignor andrea bellandi ben trovato eccellenza buonasera a tutti voi spero che mi sentiate sì benissimo perfettamente grazie allora iniziamo come sempre con la frase con cui ci siamo lasciati ieri che avrebbe dato il via alla puntata di oggi è una sua frase eccellenza vediamo se la riconosce pronunciata durante l'omelia dell'inizio del cammino sinodale 17 ottobre 2021 abbiamo scelto queste parole siamo chiamati a incontrare e a incontrarci per capire le attese che albergano nel cuore della gente eccellenza è questo l'obiettivo del cammino sinodale capire le attese che albergano nel cuore della gente direi questo è uno dei dei grandi obiettivi dentro il l'obiettivo principale che è forse riscoprire la natura primigenia originaria della chiesa che è appunto una natura di tipo sinodale e siamo convocati per camminare insieme con il signore dentro questo appunto c'è la la necessità di ascoltare ascoltarci per ascoltare lo spirito un grande lavoro quello che sta portando avanti la diocesi di salerno un grande territorio 162 parrocchie mezzo milione di abitanti don roberto a che punto è il cammino sinodale della vostra diocese siamo in cammino appunto in fondo e abbiamo tutto dovuto riscoprire cosa significava per noi sinodo perché una parola carica di significati di storia ha un suo peso già di per sé abbiamo voluto declinarla e comprendere la farne prendere coscienza al clero ai laici a tutta quanta la compaggine ecclesiale della diocesi e cercando proprio di partire da quella che la domanda fondamentale del sinodo si parla di compagni di viaggio si parla di spirito santo si parla di chiesa in ascolto in cammino in cammino con il popolo di dio e un popolo di dio che ascolta quello che è il mondo della sua complessità e tutte le sue sfaccettature quindi ecco una presa di coscienza che siamo di fronte ad una parola antica che evoca grandi cose ma allo stesso tempo una parola che pao francesco declina per l'oggi per la chiesa contemporanea come chiesa che in ascolto come chiesa che si mette in cammino come chiesa soprattutto che ecco ecco le attese della gente diceva il nostro arcivesco no quindi guardare la gente le persone senza etichette senza pregiudizi ma il cuore dell'uomo come ci invitava già a fare il concilio vaticano secondo lo gatum de spes no le gioie i dolori le angoscia le speranze dell'uomo di oggi ecco ritornare mettere al centro del lavoro della chiesa del suo compito della sua natura il cuore della persona dell'uomo di oggi eccellenza un percorso sinodale fatto non di eventi ma di ferialità di quotidianità e uno questo insomma uno degli elementi che caratterizzano il percorso della diocese di salerno perché questa scelta l'ascolto appunto non avviene nei grandi momenti nei momenti eccezionali l'ascolto è quello quotidiano nella ferialità affrontando i bisogni le circostanze le condizioni di vita di tutti e per questo ecco capiamo che la chiesa sinodale è una chiesa che si fa compagna a ogni persona ogni fratella ogni sorella in quelle che sono le condizioni di vita assegnate dalle preoccupazioni economiche ora dalle preoccupazioni gravi per la guerra anche dalle distanze che si sono create a causa della pandemia sono le condizioni di vita ordinaria che chiedono appunto una un ascolto e una capacità di discernimento comune che avviene camminando insieme giorno per giorno però sappiamo che almeno un evento importante ci sarà l'incontro del 20 maggio in cui i giovani incontreranno lei e anche i vicari delle foranie insomma partire dai giovani credo che sia già un programma importante sì i giovani sappiamo bene come siano da una parte il cuore anche amato amato dal signore amato dalla chiesa e nello stesso tempo come siano forse coloro che più hanno da una parte risentito in questo periodo così drammatico della pandemia ma anche diciamo più a monte sono le persone che fanno fatica a comprendere quello che è il messaggio che la chiesa vuole portare e quindi forse dobbiamo riallacciare proprio con loro dei rapporti basati sulla sulla semplicità sulla riconoscimento delle loro domande delle loro attese proprio perché diciamo i giovani vogliono una chiesa che sappia anzitutto porre domande vere più che immediatamente risposte talvolta anche a domande che sono immaginate non sono le loro Don Roberto come sta avvenendo allora questo ascolto diciamo una diocesi complessa anche territorialmente vi siete divisi avete formato un'equip e poi come avviene il raggiungimento delle persone che dicevi prima anche proprio per un ascolto che parta veramente dal basso certo ci sono i referenti sinodali in ogni parrocchia abbiamo interrogato e spinto gli organismi di partecipazione anche quelli poi più territoriali nell'interrogarsi su quello che è il sinodo e a quali trasformazioni ci invita a fare la domanda è come ripartire da cristo come come stiamo leggendo anche nei vangeli in questi giorni della dell'ottava di pasqua come correre incontro al risorto perché una chiesa in sinodo è prima una chiesa che si mette in cammino dietro a gesù riconosce la sua voce deve rimparare a riscoprire la voce del maestro e dello spirito santo quindi la domanda che abbiamo posto ai referenti sinodali a quelli che sono gli organismi di partecipazione di sani e territoriali è come le nostre strutture il nostro modo di fare concepire la pastorale aiuta facilita la chiesa e la gente che incontriamo a avere questa esperienza con il signore gesù per cui ecco le schede le domande vari stimoli che vengono soprattutto utilizzando quelli che sono i momenti della vita ordinaria del territorio soprattutto della diocesi diventa quello il luogo principale in cui far passare questa sinodalità intesa non tanto come un evento da celebrare racchiuso in un arco temporale ristretto con documenti regole da adempiere ma proprio come un vissuto che deve diventare poi una uno stile dell'essere chiesa oggi mo signor bellandi quali sono state le se ci sono state delle difficoltà proprio per far passare il messaggio di questo tra virgolette nuovo stile sinodale vede e la maggiore difficoltà sarebbe anche la risorsa maggiore perché ancora da noi nel meridione c'è una fede popolare che regge e quindi c'è anche diciamo una frequenza ai momenti sacramentali alle celebrazioni che rispetto ad altre zone d'italia io ad esempio vengo dalla toscana e ho notato molta differenza da questo punto di vista però quella che sarebbe appunto una risorsa rischia di diventare l'attaccamento a quello che il papa direbbe il si è sempre fatto così in questo caso ecco dobbiamo invece rimetterci in una posizione di annuncio di apertura di uscita e talvolta questo trova delle difficoltà siamo stati a visitare a fisciano in provincia di salerno un monastero il monastero delle suore carmeritane che insieme alla caritas hanno stanno organizzando quello che è stato chiamato il polo della carità proprio una parte di questo monastero di queste suore di clausura quindi di vita contemplativa dato alla caritas per accogliere chi ha più bisogno in questi giorni anche accogliere i profughi che arrivano dall'ucraina vediamo queste donne hanno incominciato ad avere fiducia in noi ad aprirsi a confrontarsi raccontarci i loro problemi e noi nel nostro piccolo con l'aiuto di dio abbiamo cercato sempre di aiutarle di farle sentire a casa questo piccolo gruppo all'inizio mangiavano con noi condividevano con noi la preghiera e alcune sono rimaste grazie all'aiuto della caritas siamo riuscite poi a insomma renderle anche autonome e accanto a questa però accoglienza materiale poi è nata anche un percorso spirituale un percorso di accompagnamento perché ecco oltre la cura del corpo è importante anche la cura dell'anima e grazie alla presenza delle suore questo è stato fatto e oggi possiamo dire ecco che in questo convento è nato veramente un'esperienza comunitaria di accoglienza di incontro che poi è significato mettersi a disposizione degli altri anche da parte di coloro che sono ospitate non è facile organizzare un percorso per ciascuno di loro quindi c'è bisogno di un'equip multidisciplinare che possa proprio individuare i bisogni e le esigenze di ciascuno di loro le esigenze delle madri delle donne donne vittime di violenza donne che hanno dovuto lasciare o abbandonare le proprie case le proprie famiglie nascondersi quindi a casa di san giuseppe è un progetto che vuole anche nel in questo territorio di fisciano allargare il proprio interesse il proprio campo di azione creando un polo della carità è chiaro che la progettualità che abbiamo cominciato su quest'opera ci viene anche grazie all'aiuto della CEI che ci ha dato il contributo per avviare dei lavori per chiaramente separare i luoghi le mone che continueranno a rimanere nel loro spazio ad avere la loro tranquillità e le famiglie che accoglieremo che abbiamo già accolto e le donne che accoglieremo poi in futuro ecco avranno i loro spazi poi c'è tutta una serie di lavoro ecco con educatori operatori e quant'altro quindi davvero siamo in piena sinergia in questa chiesa sinodale in cammino proprio per vivere un momento forte gesti concreti di carità accoglienza e carità nel cammino sinodale della chiesa di salerno campagna a cerno commenteremo anche questo servizio tra pochi minuti dopo la pubblicità con monsignor andrea bellandi da roberto piemonte stiamo raccontando il cammino sinodale dell'arcidiocesi di salerno campagna a cerno eccellenza abbiamo visto poco fa questo bel servizio in realtà particolare no una comunità contemplativa che cede no si cede parte del suo spazio per accogliere e lì poi c'è una commissione un'altra vita attiva e vita contemplativa però questo è veramente frutto di un ascolto di un territorio dei bisogni e quando c'è da sporcarsi le mani mettere in comune anche dei beni la chiesa c'è in questo assolutamente io credo che è un esempio bellissimo quello di fisciano che che può anche indirizzare altre realtà noi abbiamo molte strutture diciamolo francamente che sono sotto utilizzate soprattutto queste strutture che riguardano ordini religiosi conventi che purtroppo nel tempo hanno diminuito le loro presenze ecco io credo che questa combinazione dell'aspetto della preghiera della spiritualità con quello dell'accoglienza della carità e della fraternità sia una bellissima opportunità proprio per da una parte anche ridare vigore alla presenza religiosa e proprio perché si confronta anche con quelli che sono le attesi bisogni e necessità dell'oggi dall'altra le persone che vengono accolte capiscono che non è soltanto del pane che noi offriamo o un tetto ma offriamo una compagnia una realmente una fraternità dove la dimensione della della preghiera del rapporto con dio è il punto centrale don roberto mi dicevi prima durante la pubblicità che anche il mondo laicale i laici della diocesi hanno accolto questo periodo di confronto di ascolto con entusiasmo sì penso anche dopo i due anni della pandemia con tutte le restrizioni sul piano proprio dell'attività pastorale c'era l'esigenza delle parrocchie e dell'aicato i catechisti eccetera il mondo anche della carità ecco di ripartire allora abbiamo voluto cogliere questa grande voglia questo desiderio di ripartenza cercando di mettere che cosa novità la linfa vitale della dello spirito sinodale non ripetere ciò che si faceva prima ciò che si è già fatto sempre rinnovamento della ma cercare appunto di una ripartenza nella novità nell'innovare un pochettino tutto ponendoci appunto il problema come incontrare cristo oggi essenzializzando il messaggio l'annuncio della chiesa e il laicato veramente sta rispondendo in maniera molto generosa in tutto questo eccellenza in chiusura lo chiediamo a tutti i pastori che arrivano qui nel nostro programma al termine di questo cammino sinodale che chiesa spera che chiesa le piacerebbe vedere a salerno una chiesa della vicinanza e una chiesa della della libertà e della creatività ricordando le parole che papa a settembre del 21 diceva bratislava cioè la chiesa che non ripete automaticamente con cose o anche parole che sono diventate un po già sentite ma che ha il coraggio di mettersi in discussione riscoprendo la freschezza del vangelo perché il vangelo è sempre una novità monsignor andrea bellandi don roberto piemonte grazie per averci portato la chiesa di salerno qui in studio e di conseguenza in tutta italia buon cammino tornate ad aggiornarci anche sulle iniziative anche questo evento del 20 maggio con i giovani vediamo come sarà e magari lo racconteremo noi ci salutiamo e ci lasciamo con la frase che aprirà la puntata di lunedì è presa dal documento preparatorio del sinodo sulla sinodalità la frase è questa il camminare insieme permette alla chiesa di annunciare il vangelo conformemente alla missione che le è stata affidata grazie per essere stati con noi buon fine settimana ci vediamo la settimana prossima 19 e 30 lunedì in cammino